Il rilancio delle politiche industriali e delle attività economiche e produttive in Calabria attraverso la trasformazione del Corap in una nuova agenzia regionale. E' questo l'obiettivo della proposta di legge presentata dal consigliere regionale del PD, Raffaele Mammoliti, e condivisa da tutto il gruppo Democrat. La proposta di legge dal titolo Riordino delle norme in materia di politica industriale, attività produttive, sviluppo economico e istituzione dell'Agenzia regionale e sviluppo industriale è stata presentata stamane in una conferenza stampa. Nella sede regionale del PD alla mezza terra. Prevediamo tre aspetti che per me sono importantissimi. Il primo è quello dell'effettiva valorizzazione, del know-how, delle esperienze, delle capacità che nel corso di questi anni sono maturate e che possono offrire e dare un contributo notevolissimo a questa nuova agenzia. La trasformazione quindi del Corap in questa nuova agenzia che dovrebbe consentire alla regione di riassorbire le funzioni delle politiche industriali e quindi dare poi all'agenzia questa capacità di programmazione anche sulle attività produttive e sullo sviluppo economico della nostra regione. E il terzo è quello del coinvolgimento dei comuni. Si punta poi ad un costruttivo confronto con la maggioranza di centrodestra. Auspichiamo che anche su questo provvedimento possa aprirsi un'interlocuzione con l'RSU, con le organizzazioni sindacali, con tutti gli attori che interagiscono sulle attività produttive, sullo sviluppo economico e naturalmente anche con il governo regionale.